Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono sulla Fisker con Gianfranco Pizzuto Ciao a tutti Dietro abbiamo... Giulio Abbiamo un vuoto Dietro abbiamo Giulio Trentino, Alto Adige Bologna Circa Bologna e Imola Spagnolo? No no, Bologna è andato qua però Spagnolo nell'anima dai Aspettiamo Matteo E adesso che c'è Italia Spagna? Non guardo calcio io Diplomatico hai capito? Va bene bravo Prima che arriva Matteo ci facciamo un bel rifornimento, un bel caffè E nel mentre vi lascio subito con un po' di highlights della Fisker E ci vediamo tra poco con Fulminia Che è veramente la rivoluzione delle auto elettriche A tra poco Ci conosciamo? Ragazzi partiamo dal dietro, è qualcosa di spettacolare Adesso faccio il giro intorno alla macchina Vi faccio un po' quelle che sono le impressioni Perché in foto non rende E la macchina è veramente bellissima Proprio è arrivata allo stato dell'arte, il design Vi faccio vedere subito molte particolarità che ha questa macchina Partiamo dal fanale 3D Guardate che bello Trasparente Con bellissimo estrattore inferiore Enorme Ma guardate cosa si vede Si vedono le ruote Le ruote proprio dalla visuale posteriore Ed ha un'impressione veramente iper sportiva Così anche come questa pinna trasparente E forse si fa anche un po' fatica a vedere Ma dal vivo ha un aspetto veramente inconfondibile Molto molto bello Con queste tre pinne Che vengono riprese anche nella parte anteriore Con la bandiera italiana Veramente molto bella Impressionante Qua si vede che riprende il concetto del fulmine Con i cerchi quasi completamente lenticolari E quindi in piena filosofia dell'elettrico Viene ripreso il concetto fulmine dalle linee laterali della macchina Per poi passare al dietro Appunto come vi ho fatto vedere Avviciniamoci verso gli interni Gli interni sono abbozzati Non si vedono bene bene Non sono ancora totalmente definitivi Ricordo che questa macchina qui Avrà una potenza di 1.5 megawatt Ecco gli specchietti Ragazzi sono qua con Gianfranco Pizzuto Come avete già visto nello scorso video E come vedete qui alle nostre spalle In fondo c'è la cattivissima fulminea Allora iniziamo subito un pochettino Con quelle che sono state le idee Per la progettazione di questa macchina Gianfranco raccontaci un po' come è nata È nata dal primo lockdown Diciamo che come tanti eravamo a casa Essendo a casa uno aveva magari progettato Qualcosa di totalmente diverso E di colpo devi reinventarti la tua vita Dopo un po' di sbandamento iniziale Con un gruppo di amici Tra cui Massimiliano Zocchi Che i più conosceranno Che è un mio caro amico Oltre che essere un giornalista Che scrive di elettrico e non solo Mi ha pungolato dicendo Ma perché non fai un team di Formula E Inizialmente E ho provato anche a rilevare un team Che era poi il team NIO La cosa non è andata a buon fine E da lì avevamo messo in piedi Già il team di Formula E Quindi con ingegneri, designer eccetera Quindi è stato quasi naturale Passare a un progetto Di costruire qualcosa di veramente particolare Come la Hypercar E con lo stesso team Aggiungendo poi Il tassello del designer Che è di Torino Che è Epta Design Luigi Memol Alessandro Fini Che colgo l'occasione per salutare E con loro abbiamo deciso A settembre lo stile E gli avevo chiesto Di farmi due proposte Una proposta tradizionale E una proposta estrema Cioè una proposta che fosse Che rompesse gli schemi Di quello che noi già conosciamo Da qui riprende anche poi il nome Esattamente Quando poi Questo era a settembre Quando poi Dovevamo costituire la società Come la chiamiamo? E allora lì Ci è venuto in mente Che avevo chiamato Le due proposte Una tradizionale E una estrema E quindi automobili estrema Ecco Estrema Estrema veramente in tutto Perché la macchina Appunto ha una potenza mostruosa E raccontaci un po' Quali sono le caratteristiche tecniche Come ti dicevo appunto Passando da Formula E Da un progetto di team di Formula E A poi fare la Hypercar I miei ingegneri Volevano il massimo Quindi hanno cercato Anzi conoscevano già I migliori fornitori Di motori elettrici Di tipo racing E tra l'altro È una società inglese Non ci sono segreti È la Integral Powertrain E quindi hanno cercato Anzi conoscevano Gli ingegneri della Integral Powertrain E loro ci hanno consigliato Queste quattro motorizzazioni elettriche Quindi 510 cavalli sui motore Quindi 2040 cavalli sui quattro motori E da lì ovviamente Devi anche però dargli della energia L'energia non può venire da una batteria tradizionale Perché sarebbe voluto dire Avere un peso eccessivo Cioè tutto quello secondo me In ambito Hypercar Che supera i 1500 chili Sono chili di troppo Per cui come poter contenere questi chili In maniera insomma Da rimanere sotto questo target Abbiamo trovato un mio caro amico Che è professore al Politecnico di Bruxelles Il professor Noshino Ma Che lavorava già da tanti anni Alla cella con la solid state E da lì abbiamo detto Va bene mettiamo dentro la cella Allo stato solido Con questo risparmiamo metà del peso A parità di potenza A parità di energia E così abbiamo iniziato a fare i primi prototipi Che adesso sono in laboratorio Quindi ovviamente non ancora nell'automobile Ma le simulazioni da laboratorio Ci danno i risultati che ci aspettavamo Avvicinati alla macchina Perché vi facciamo vedere dove si ricarica E quali sono le caratteristiche del progetto Gianfranco quali sono le caratteristiche Della ricarica di estrema fulminia Allora anzitutto abbiamo la tecnologia 850 volt Che ci permette di avere dei Ovviamente cicli di ricarica Molto contenuti nel tempo Che sono molto importanti per tutti noi Quindi noi andiamo da un 10% Un 80% di ricarica Bisogna anche dire che la batteria 100 kWh Quindi è una batteria abbastanza capiente In meno di 15 minuti Questo perché abbiamo L'architettura 850 volt Celle allo stato solido Non abbiamo il problema delle celle Con l'elettrolita liquido Dove il calore è un problema Anzi per le celle allo stato solido Deve esserci una bella temperatura Quindi noi lavoriamo sui 70-80 gradi centigradi Che è una temperatura come tu sai Molto più alta che nelle cellule Con l'elettrolita liquido Per cui ci permette di avere una curva di ricarica Molto costante Quindi non abbiamo un picco Come tanti dicono carico a 350 kW Per 10 secondi Poi la curva si abbassa Noi invece l'abbiamo molto costante Riusciamo a fare il 10-80% In 14 minuti circa Straordinario Gianfranco, qua ci troviamo In quello che è La sede del posto Appunto dove sarà costruita Estrema Ecco A che punto siamo? Quali possono essere le tempistiche E come sarà impostata La linea di produzione di Estrema? Siamo entrati qua a maggio E quindi abbiamo fatto un po' di lavoretti Come tu vedi un po' clinico Come ambiente per il momento Un po' sterile Però ci teniamo a lavorare Un ambiente bello, pulito, eccetera Ovviamente adesso entreranno le attrezzature La pandemia ha causato anche dei ritardi Con le forniture Perché i materiali Alluminio, anche legno, eccetera Sembra strano ma scarseggiano Non si riescono a trovare E tutti ci hanno spostato Quindi le consegne a settembre Non è un grande problema Perché comunque noi andiamo avanti Lavorando con i nostri partner Che hanno già le loro attrezzature Quindi qui in realtà Prima dell'autunno Ci serve ben poco Comunque ci teniamo a entrare piano piano Per far diventare questa la nostra casa Quindi questa a tutti gli effetti Diventerà la parte operativa dell'azienda Quindi nel piano di sopra Ci sono gli uffici Dove c'è la parte commerciale La parte di progettazione La parte di design E poi qui allestiremo Una parte di showroom Dove poi il cliente potrà venire E scegliersi gli interni I colori, eccetera E una parte di montaggio Perché alla fine nella Motor Valley Come tu sai molto bene I fornitori, i partner Sono tutti qui vicino Quindi nel giro di un'ora Uno arriva con le parti Per montare la prossima pulminea E noi contiamo di farne due al mese Una macchina in 15 giorni Una macchina da 2 milioni di euro Per cui noi che serve una grande serie E lo possiamo fare tutto qua E non quindi in una grande catena di montaggio Come uno si immagina Ma si fa una cosa Sottolineiamo artigianale La macchina è artigianale fatta a mano Esattamente Nella Motor Valley Abbiamo una capacità Di trovare personale Con una passione Che non ha uguali nel mondo E questo permette al prodotto Di diventare esclusivo Vuol dire se Pagani è qui Se Lamborghini è qui Se Ferrari è qui, Maserati è qui Non è un caso E quindi noi non potevamo fare altro Che essere ospitati In questa bellissima Motor Valley Gianfranco Grazie mille per questa Tua disponibilità E soprattutto complimenti per la macchina Perché come vedete cari amici È davvero bellissima Come dicevo prima È molto meglio dal vivo Perché nelle foto non rende E devo dire che Non esiste niente di simile È proprio diversa dalle altre Concettualmente E ha un design davvero Molto identificativo E soprattutto con questo colore qui Che sa proprio di Italia È molto bello Ed è stata una scelta Che ha fortemente voluto Gianfranco Per identificare il prodotto Come anche le tre pinne colorate Con la bandiera italiana Appunto per sottolineare La provenienza L'origine di questa hypercar A Gianfranco quante persone Sono venute qui in azienda A vedere Estrema Fulminia Siamo appena partiti Quindi molto molto poche Siete tra i fortunati Anzi tra gli youtuber Siete stati i primi Non è poco Bella opportunità E quindi mi dicevi Che avete aperto Qua giovedì di fatto Sì abbiamo aperto Diciamo al pubblico Con la prima manifestazione Con il club degli investitori Che è un gruppo di investitori Penso che abbiano sede a Torino E che investono in progetti Come questo e anche altri Quindi erano qua una trentina E tutti quelli che sono appunto I membri di questo club Dove lo scopo è quello Di investire in qualcosa Che sia di innovativo E magari loro adesso Dicono sì Magari investiamo Non so Gianfranco Prima mi hai fatto vedere Una rivista Ma in realtà non è una rivista È una sorta di libro Che avete fatto Dove siete presenti Ragazzi è impressionante Tutti parlano In quattro settimane La rassegna stampa E non è tutta Perché non sapevamo poi Come rilegare qua la rivista E quello che abbiamo creato In quattro settimane È impressionante Quindi rassegna stampa Nostra Questo Guardate In quattro settimane E quattro settimane fa Ben pochi sapevano Dell'esistenza del nostro progetto Adesso Siamo felici Che abbiamo avuto Questo ritorno Ovviamente perché Fulmine è bellissima Ma la tecnologia In realtà È quello che ci preme Presentare E abbiamo dato Alla tecnologia Come vedete Una bellissima linea Una bellissima livrea E spero che vi piaccia Ragazzi questo Non è un sogno È un progetto concreto Che sta andando avanti Veramente con Tantissima forza Come vedete Tutti ne stanno parlando E ci sono comunque Cose che magari In questo momento Non diciamo Le teniamo un attimo Riservate per il futuro Ma l'impegno E lo sforzo E le energie e spese Sono davvero tanti E presto vedremo Sono quattro settimane Che non dormo Cioè È destinato comunque In tempi Abbastanza brevi Con ottimi sviluppi Anche perché Come dicevo La macchina promette Davvero tanto E poi insomma Le persone Il team Di persone Che c'è dietro È di spessore Ho avuto la possibilità Di lavorare Con degli ingegneri Con dei designer Che hanno Trent'anni di esperienza Nel settore automotive Gli ultimi quindici Dei quali passati O nella formula E O nella Comunque Nella motorizzazione elettrica Power train elettrici Sviluppo di batterie È veramente Una Champions League Di personaggi Che ho avuto La fortuna Di avere del mio network Senza di loro Questo non potrebbe mai Essere sviluppato Nel modo che appunto Abbiamo Di cui abbiamo parlato Prima Anche in privato Prima della macchina Appunto viene La struttura E qui questo Ve lo diciamo Per sottolineare Che appunto Non è una cosa Da accampatinare Ma ne vedremo Davvero delle belle Per oggi è tutto Qua dietro Gianfranco Giulio e Matteo Vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ragazzi Nel link in descrizione Trovate il video di Matteo Che è completo Con anche l'intervista Di Gianfranco Pizzuto Matteo Ma cosa ne pensi Della fulminea? Eh ragazzi È estrema quest'auto Ci ha fatto anche Il gioco di parole Ciao a tutti Ciao a tutti